Salve, sono Barbara Rizzotti, responsabile marketing e comunicazione di Wolf System. Dal workshop di oggi del dottor Marzio Miodini ho imparato a focalizzare i miei target e a capire nel mondo della zootecnia tutti quei punti che devono essere presi in considerazione e che non credevo neanche esistessero da un progettista per risolvere i problemi di un allevatore sulla stalla. In questo modo spero di poter anche comunicare come la Wolf può risolvere le situazioni e le esigenze dell'allevatore.